Per economia e finanza siamo con Luisa Bordoni, direttore generale di AEDC Italia. Buongiorno Luisa, grazie di averci ospitato. Ci siamo già rivisti, noi ci siamo già incontrati, ci siamo già parlati circa sei mesi fa e siamo qui ora per presentare un nuovo incontro che è l'AEDC Symposium che si terrà il 21 settembre 2011. Ci vuole parlare di questo simposio, di questo convegno, di che cosa si tratta, in che cosa consiste? Sì, grazie. Il nostro simposio vuole riprendere il discorso che abbiamo, come diceva correttamente, iniziato sei mesi fa e vuole cercare di capire meglio rispetto al cloud a come si sta orientando il mercato italiano e come stanno andando le prime sperimentazioni. Lo faremo articolando la nostra giornata in tre momenti importanti, tutti e tre ugualmente importanti. Il primo sarà dedicato a che cosa porta il cloud nel contesto di quello che sta portando l'innovazione tecnologica in generale, soprattutto riguardo ad aspetti tipo il mobile, tipo le social application, tipo tutta l'area dell'analytics e dei big data. E per quest'area ci avvaleremo del contributo del nostro collega Henry Morris, che è il nostro software specialist che guarda il mercato del software da più di vent'anni e che ci aiuterà, soprattutto con l'esempio del mercato americano, a capire che cosa possiamo aspettarci. Il secondo momento è concentrato su chi ha iniziato effettivamente a fare il cloud e quindi avremo molti ospiti che porteranno il loro contributo, i pro e i contro, in un dialogo molto concreto, molto realistico, molto oggettivo. Il terzo momento sarà legato agli aspetti legati a tutta la parte legale e tutta la parte legata alla normativa. Essendo un mondo nuovo vogliamo anche capire quanto il contesto legislativo può aiutare o potrebbe essere l'ostacolo ed è un aspetto per il quale ci avvaleremo degli esperti proprio nell'area in materia più legata. Abbiamo parlato di questa presenza autorevole di Henry Morris. Che cosa darà di speciale a questo convegno? Henry ha guardato al mercato del software con molta analiticità nel corso degli ultimi anni, soprattutto con riguardo agli aspetti dell'analytics, un'area che proprio in IDC ha coniato e iniziato lui e con riguardo agli aspetti del social. Quindi l'obiettivo del suo intervento sarà quello di dimostrare come il valore che porta a un'implementazione cloud può essere a sua volta accelerato dall'introduzione o da una combinazione efficiente e virtuosa di questi elementi importanti che stanno emergendo proprio come il risultato di tutta questa trasformazione in atto. Quindi anch'io sono molto curiosa di sapere, non ci ha anticipato tutto, quindi vedremo che cosa ci racconterà durante la giornata facendo leva anche su molti esempi di utilizzatori americani. Perfetto, quindi all'appuntamento è il 21 settembre all'Hotel Media. Grazie. 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 Grazie.